Ecco mi trovo sulla Ciscia Torre Ovo dove alle 5 meno un quarto, anzi alle 6 meno un quarto per essere più precisi, questa mattina c'è stata una tromba d'aria con bombe d'acqua e tutt'attorno qui c'è distruzione. Sul posto c'è l'assessore Zingaropoli il quale anche lui ha ricevuto dei danni alla sua proprietà e non si sente di dire qualcosa. C'è anche il Sindaco Dottore Emidio De Pascale a quale punto chiedo, subito, Sindaco cosa è successo? Che cosa è successo? Purtroppo c'è stata questa tromba d'aria, credo che sia una tromba d'aria che ha distrutto tutto questo versante. Quindi anche verso la torre anche Sindaco mi hanno detto, è vero? Sì, abbiamo partito, ci sono delle case che sono state completamente scommentiate prima di ritornovo. La situazione è veramente disastrosa. Va bene Sindaco, non le faccio perdere tempo, grazie e buona giornata, speriamo.